E' legale mociare? Posso dire che non so cosa voglia dire, tipo sternutire, starnutire? Una cosa che ha a che fare con il buco? Ok, niente pozione. Ah, i miei 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 di Dario Moccia, ok, non ci sarei mai arrivato, sarò sincero. Non ci sarei mai arrivato. Io non li conosco, però se vuoi usali pure. Progettivo interessante per il futuro da streamer? No, continuare a giocare i giochi che mi piacciono, principalmente. Upiron 24, per essere precisi. 24. 24. 24. Mi sono impegnato, però, eh. Non ho, non ho memato. Il midlaner mi pulla? Tra un po' mi portava via il red buff, ma whatever. Però vai in lane, pazzo che non sei altro. Ok. Che sion è? Un bel assassino full letalite. Che domande. L'unico sion giungla giocabile. Aspettiamo. Aspettiamo. Ok. Tunk! Così, shottiamo tutto. Che forte sia un giungla, ragazzi. Che forte. Un altro punto di Q, direi. Tanto ho visto che non man in vaso, lo prendo a livello 3. 4, ve lo dire. Dunque penso che uno dei migliori consigli da jungle che posso darvi è non comprate la pozione. Non serve a niente. A me lo che non giochiate tipo un qualche troll che tipo muore dalla giungla a caso. Non comprate la pozione se andate giungla. Proprio totalmente useless. Che rune? Eccole qua. Ok. Ah, non... Secondo me ho guardato, però... Uh, ci sta... Ci sta per entrare quella. Vabbè. Era abbastanza scontato avesse flash tutti. Infatti... Non pensavo li avremmo killati, onestamente. Però... Oh, what? Ok. E non vi posso aiutare. Però vedo che l'inseguimento... Smurf! Smurfing! E lo bobbing! Il careto! Preso! Questi sono tanti HP per noi. Presa! Presa! Tunk! Annichiliti comunque. E lo slurfing Olè Ganchiamo anche top Sono pazzo oggi Bene Atrox ha già missato tutto Perfetto Ci abbiamo provato Back Cosa stava avvenendo in bottling Che è quel bordello Perma slow up Il drago prendetelo No Scusa ma il jungler dov'era E' morto Dov'era Jarvan Vabbè Ash non si è mosse un centimetro E perché avrebbe dovuto? E perché avrebbe dovuto Mi chiedo Quando la tecnica della torretta Funziona così bene L'autoping di Brom E' molto bravo Allora vi faccio vedere come L'assassione si shotta Sti cosi qua Ok Non proprio quello che volevo TUNK Ok Scopati Qui sono tanti Ah ma Jarvan ha dato Ah no è morto di nuovo Ma che sta facendo Un bidone Tchuf 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 Bastardo No Ma si è girato Appena mi ha visto Il bastardo Avete visto Ha capito che era in grave Pericolo Ha percepito Il pericolo Vabbè Porta ancora Yu-Gi-Oh Samwell Su Twitch no Però su YouTube Sì Sul canale FierikVod E' pieno di roba di Yu-Gi-Oh Tchum Oh Il Pyron Grazie Pyron del sub Giftato Dei sub giftati Cosa ti gioco Mettiamo in lista qualcosa Caro Pyron Mettiamo in lista Anzi è uscito proprio oggi Un bidone di Yu-Gi-Oh A dirla tutta Quando porti il mio pick Eeeh Un Pyron Questa è la domanda Da un milione di dollari Un Pyron Non lo so Perché domani Molto probabilmente Non ci sarà live di LOL Perché Intanto Torno ad andare in palestra Quindi non penso Fare doppie live domani Martedì Probabilmente Martedì C'è caso Martedì Probabilmente lo faccio Grazie comunque di sub giftati Sei grossissimo Cosa vai a fare in palestra Per essere grossissimo E' come quando ti dicono Quando tu Quando si esce a mangiare Eeeh E la zia ti dice E tu Ti dice Ah mangio anche questo E no zia Ma sono a dieta Ma dieta Ma sei così magro E grazie cazzo Zia Perché sto a dieta Che sono magro No come te Obesa di me Scherzavo Capito Il concetto è lo stesso Andiamo se esco A prendere questa Quello non lo direi La zia Ha ha Tunk Ho esagerato Non ho fatto un cazzo I danni E ho ancora pochi danni Purtroppo Perché sta tipa È solo un livello Sotto di me Cosa è successo Ah beh no Però è giusto No sono Sono io che sono Abbastanza livellato Ho visto qualcuno Beh Direi che gli ho fatto male Si muove bene Stalle Blanc Per essere Iron 8-3 Non ha farm Magari non è detto Che sia smurf Tunk Eh ma la condizione Fa veramente Un casino di danni E non pensate Guarda qua Fa più danni Dello smite Come faccio Vengo martedì E ti dico il pic Come No 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 Va bene così Ma puoi dirlo anche adesso Se ce l'hai Quando ti pare Tanto io segno tutto Se ce l'hai adesso Me lo dici adesso Tenti me lo dici Quando quando vieni Ma se non vieni martedì Allora Pyron Non è che scade Sta cosa Tu mi hai giftato 5 sub Anche se vieni tra un mese Io te lo gioco Quando vuoi Non c'è Non c'è fretta Qua è soddisfatti O soddisfatti In teoria Martedì sera Sapevo che me lo rubava Quelli erano HP preziosi Per me Ma lui proprio Ho aspettato l'ultimo Per Last Titaro No Africa F4 Per adesso Non è nei piani Per almeno diversi mesi Non ci sarà Ma chi è che devo killare ancora Garen Nami Nami non l'ho killato Ok Quel sidestep Quel sidestep Ok Ok Mi manca solo lei Da killare Si farà mai avanti Si farà mai avanti Magari qua Oh No Speravo di esserci col piede fuori Dalla hitbox Per quello Non l'ho Chiusa la Q Vabbè E' un po' facile Per Nami Counterarmi Possiamo dirlo Visto Devo star fermo Per terrare il colpo Vabbè Vediamo se viene La devo killare Ma non ci riesco Non è facile Ok Ah questi mi aiuteranno Probabilmente Poi Questo potrebbe pure aiutare Guardi anime Ogni tanto si Non sono un Oddio Rip Mamma mia Nami Ah Rubata proprio Rubata proprio Non sono Un super fan Degli anime Però Mi riguardo Ecco Ogni tanto si Anime preferito Non ve lo dico Così un giorno Potrei tenermi La possibilità Di fare un video Con i miei Top anime preferiti Mi piace come si muove Sto tizio Tunk Ha un Un po' Un modo di muoversi Garen Un po' Un po' Così I'm I'm Io sono Io sono Che cos'è chat Che cos'è secondo voi Lui È Garen Quello è poco M'assicuro Iron I'm the matcha Mi piace Oh no Oh no Rubato Via Io non Io non sto Io non sto più Farmando la mia giungla Sto farmando Solo la loro Dai Farmiamo un po' Anche la nostra Così per il meme Bei danni Arrivo il drago Con una bella Ulti Che ne dite Quindi non usiamo Lo smite Qua Ce la fa Prendere il blue Buff Se ci riesce Forse più che questo Sapete cosa Mi conviene farmi L'ubris Così inizio a staccarlo Sti cazzo È il collector Sa che andiamo Di ubris Ok Tunk Ok Oh Attenzione Aspetta Volevo Volevo schiantarmi Tsunami Mamma mia Che penetrazione Ok Ha funzionato Lo stesso Io ho due ulti Di Sion Grazie all'Erald Avete visto? Ston Gol Ha presa All'attacco È la prima volta Che Vabbè Nessuno mi ha trastato Hubris Hubris Ma che sono questi oggetti? Dov'è la letality? Dov'è? Dov'è? Ecco qua Oh Oddio Sì Questo Questo sì Beh era difficile Chiuderli Amon Nella fine Siamo comunque Al minuto 18 Oh beh Sta prendendo tutte Nami le kill È la seconda In kill Nami Lux con la Roa Ah Ciuff ciuff Ma questa mi rotola via Non mi conviene Ah Stanno andando al drago Questi Pronti Partenza Via 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 Ah 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 Bene Sono contento che Ash mi abbia fatto Mi abbia fatto L'uccello Finato alla vision Mi ha anche rubato l'uccello adesso Però se lo merita Io ho quasi 3000 di vita Senza un oggetto di vita Mi fa piacere Oh no Cosa Ok All'attacco Niente Comunque gli altri l'hanno proprio lasciato morire Garen Ah lol Ok Non sta andando molto bene ragazzi Possiamo dirlo E Vayner mi sa che sta un po' pure trollando Perché non fa Aita Ah è impegnata a scrivere Ok Fin si sta proprio facendo i cazzi suoi Vedo Servono 100 gold Allora questo quanto mi riduce 22% Ok Ho l'Axio Mark Andiamo a comprarlo Senza l'intervista è difficile Non sia un calciatore Ehm Sì L'ho provato Sì E' abbastanza difficile Puoi comunque farlo Non mi ricordo che build ho usato Puoi comunque farlo Ecco Un po' un meme Mettiamola così Aha Come l'ho preso Vabbè Ma possiamo shottarci questo? Tanto Garen è bot A tutti a nanna Tutti a dormire Il nostro midliner si è suicidato Ok Non bello ma Oh Cosa state facendo Alleati Occhio Ok Niente di grave Mi allontano che c'è anche Jarvan Ok Forse abbiamo vinto Eh Ma io volevo andare a prendere Vayne Eh vabbè Ci accontentiamo di questo Scemo Io avevo ultato per Vayne E' arrivato E' arrivato un Jarvan davanti alla faccia Davanti al muso Va bene Spawnato in faccia Dovevamo andare via Qua era chiaro dall'inizio Non sono gli alleati Shottiamo questo Prima che muoia qualcun altro Ci proviamo Non ci riusciamo Mi sa Oh sì che ce la facciamo Dai Tuck Ok Penso vadano tutti back adesso Eh no Vanno tutti back Ci avevo pensato Di andarci ma Ci ho pensato Ad untare lì ma Ah ce l'ha con le blank Brom mi sa Sì Beh anche 13 kill Però si è un po' Un po' indietro ecco No it's not No Brom è molto arrabbiato We lose this game Per il farm di le blank Lo perdiamo Si scuro Che ne pensi del 3 a 0 Del Verona sul Napoli Eh cazzo Me ne frega Bella bro Aspetta adesso un attimo No mi hanno exhaustato Che sfiga Eh mi hanno tirato l'exus Proprio avevano fatto la combo su Vayne Che palle Che palle Grazie Drag clan Per i 3 mesi Bentornato Bentornato Non me ne frega assolutamente niente Mi dispiace Mi dispiace Purtroppo il nostro Atrox Sembra che non serva Assolutamente a niente Sapete Voglio vedere il grafico Dei danni a fine game Che dice Brom è una di quelle persone Proprio che entra Con la negatività In corpo Ah hai ragione Poi mi ero pure Dimenticato Dell'esistenza Di quella cosa Figurati Comunque Ho ipotizzato Che il Blank Potesse essere Smurf Direi Direi di no Non penso proprio Ma che cazzo State facendo Ma Abominevoli Eh vabbè Inizio a pensare Vero che It's a trap Così Proprio Sesto senso Peccato Vabbè Ha flashato Ma che cazzo Ok Andiamo a fare Nashor Vediamo Cosa riusciamo a fare Livello 13 Ma che sta facendo Le Blank Trasciamolo Ah potete Attaccarlo Anche senza La mia presenza Cioè Ok Bello Bello Non c'è Vane Sti cazzo Se muoio Ok Shottate Possono chiudere C'è Garen La wave La wave C'è Garen Forse possono chiudere No Su via Che faticoso Sto game No Un uv3 Garen Non penso Ce la faccio Ma perché scrivo Così tanto Ma cioè Io Po Eh lo killate No Ash ha flashato via Anziché attaccarlo Hanno trollato Totalmente Benissimo Asha Ha mandato tutto A puttare E' proprio Così difficile Per loro E' proprio dura Per loro Fan fatica Ragazzi Allora In quanti sono Oh shit L'hanno Shotato Oh cazzo Saperlo Potevo Ce la fanno Eh se Se le blanca Attacca quello Ce la fanno Un lucky Ok E' arrabbiatissimo Broome Tra pochi secondi Vinciamo Ma guarda che L'ho capito Ti sto pingando La ulti Per questo motivo Qua Loro non hanno rispettato La mia ulti E questo è successo Nasus Letality Ci sta ancora Ancora L'ho mai fatto Nasus Letality Penso che Una delle poche cose Non l'ho mai fatto Io non so Che un orario Ragazzi C'erano C'erano tutti Schifo Forse Ash Non ha Che Brum Che flammava Ash Mi sembrava Ok Learn to play Mamma mia Arrabbiatissimi Proprio Arrabbiatissimi Hanno proprio Una rabbia Dentro Incredibile Sapete Io ero tentato Tipo Dal non attaccare Il Nexus Lasciare un HP E morire Per vedere Brum Impazzire Totalmente Proprio Si Non attaccare